Salusa 8 aprile 2011. Non arrendetevi nell'ultima fase dello slancio verso l'ascensione. Il caos attuale ha uno scopo preciso e tutto fa parte della grande pulizia, che è in corso e sotto controllo. Non è forse interessante che gli oscuri, con i loro tentativi di bloccare i vostri progressi, di fatto, vi stanno offrendo l'opportunità esattamente contraria? Senza volerlo, vi stanno fornendo le condizioni, che rendono necessaria una approfondita pulizia della Terra. Conoscendo le loro intenzioni, cerchiamo sempre il modo per volgerle a nostro vantaggio. Talvolta, le loro azioni mostrano soltanto che, se non si riesce a fermarli, voi andate incontro a grandi calamità. Questo è un campanello d'allarme per l'umanità, affinché usi il suo potere per cambiare il corso del futuro. Se siete in grado di influenzare quel che sta avvenendo, siete spronati ad agire. Qualcuno di voi è qui a questo preciso scopo, e sarete ispirati ad usare le vostre capacità in conseguenza. Noi della Federazione Galattica siamo venuti per fare il nostro dovere, ma con il vostro aiuto e collaborazione. Non fu mai previsto che dovessimo agire come una squadra di soccorso isolata anche se, naturalmente, abbiamo alleati che stanno svolgendo un lavoro veramente arduo per realizzare il progetto della vostra ascensione. Non di meno, ciascuno di voi, secondo le proprie capacità, può far parte della grande equipe dei lavoratori di luce. Un elemento importante riguarda la diffusione della verità su quel che sta accadendo, così come parlare a nostro favore con la gente deliberatamente ingannata dai tentativi di dipingerci come spaventosi. Una volta, che potremo esser visti per quello che veramente siamo, sappiamo che la nostra presenza sarà accettata, e poi si potrà procedere a passi da gigante. Insieme potremo provvedere a tutte le necessità dell'umanità e creare le premesse per i cambiamenti finali, che chiuderanno il ciclo della dualità. Allora, potremo concentrarci nel creare i supporti di una nuova società e civiltà, fondata sul bene comune. Riteniamo che i nostri amici terrestri abbiano fatto un ottimo lavoro, e che rappresentano una grande voce a nostro sostegno. Molti lavorano nel far pressione per la divulgazione, mentre appaiono ricorrenti resoconti sugli avvistamenti, che ormai avvengono quotidianamente. Non è più possibile negare la nostra esistenza, perché le prove sono sempre più evidenti e più numerose le persone, che hanno un contatto diretto. Questi ultimi accadono più facilmente con persone incarnate sulla Terra e appartenenti a civiltà con voi direttamente coinvolte. Invariabilmente, tali anime sentono un forte legame con noi e facilmente accettano il ruolo, che stiamo svolgendo nella vostra evoluzione. Su vostro invito siamo venuti ad indicarvi il cammino, ed anche per via del decreto divino, che pone termine alla dualità. Pertanto, potete rendervi conto, che nulla prolungherà ancora per molto le esperienze attuali e, con la luce, che discende sulla Terra, i cambiamenti saranno accelerati. Il Dio di tutto ciò che è predispose che sareste usciti dalla dualità, fin dal momento in cui entraste nelle vibrazioni più basse. Nel subconscio lo avete sempre saputo e questo vi ha spronato ad avere completa fiducia nel risultato. Dice o si è frequentemente parlato e per questo motivo, almeno nell'ultimo secolo, numero, numerose anime sono venute dalle dimensioni superiori per istruirvi. Entrando nell'era spaziale, la vostra mentalità si è estesa fino a permettervi di credere in altre forme di vita fuori della Terra. Inoltre, sapendo che noi possiamo viaggiare interdimensionalmente, avete potuto rispondere a chi tuttora crede che non saremmo mai in grado di raggiungervi. La NASA ha le prove assolute della vita su altri pianeti del vostro sistema solare, ma si dà tuttora un grande affare per insabbiarle. Le loro spedizioni su Marte e sulla Luna hanno svelato moltissime testimonianze di antiche civiltà, ma le prove fotografiche sono alterate o nascoste, allo scopo di mantenerle segrete per loro fini. Avete il diritto di essere a conoscenza di tali attività e vi riveleremo le verità occultate non appena portato a termine il primo contatto pubblico. Attraverso varie fonti e per molti anni, vi sono pervenuti messaggi dalla Federazione Galattica. È occorso molto tempo affinché tali contatti fossero generalmente accettati come autentici e, per loro tramite, abbiamo potuto passarvi un gran flusso di informazioni. Esse sono state ignorate o respinte da chi altrimenti convinto e non può ammettere di essersi sbagliato. Comunque sia, verrà il giorno in cui, in un futuro molto prossimo, la verità dovrà esser resa nota. A quel momento, ognuno di voi avrà la possibilità di riesaminare le proprie beneamate convinzioni. Nessuno vi obbligherà a cambiare opinione, ma semplicemente vi sarà svelata la verità sulla vostra storia e le vostre origini. Vi abbiamo affermato che siamo tutti uno, nel qual caso potete accettare che, ad un dato momento, sarà del tutto naturale trovarci riuniti. Siete stati isolati affinché nessuno potesse interferire sulle vostre esperienze terrestri, senza previo invito da parte vostra. Le nostre offerte d'aiuto per portare la pace nel pianeta, sono state respinte dal vostro governo a favore di un patto con i grigi, in uno scambio di tecnologie avanzate e basi terrestri. Questo non nel vostro interesse, ma per costruire una base di potere che avrebbe portato al dominio mondiale. A causa dell'enorme incremento del livello di coscienza, questo piano è stato sventato, mentre la luce è cresciuta in modo esponenziale e continua a farlo. Le energie inferiori non detengono più il loro precedente potere e ciò significa la fine degli oscuri. La dualità non è mai stata un percorso agevole, ma presto sarete in grado di vederne chiaramente la fine. Tutti i cambiamenti più importanti procedono a gonfie vele e le ultime vestigia del controllo degli illuminati spariranno. Ancora una volta, dunque, vi ripetiamo che tutto va bene, perché la vostra vittoria è garantita. È venuto il momento di festeggiare, perché per la prima volta la vostra civiltà ha superato le prove, cui fu soggetta e ha portato la luce sulla Terra. Non solo, ma l'ascensione insieme a Madre Terra è un'occasione unica e voi siete privilegiati di farne parte. Io sono il Siriano Salus Hae di cuore e vi ammiro per il vostro impegno nello sconfiggere gli oscuri e la vostra fede nel potere della luce. Sarete veramente in grado di affermare di aver sfidato una potente forza di tenebre e di aver vinto. Grazie, Salus Hae. Mike Quinsey Traduzione Costanza 2003